I militari della Guardia di Finanza di Foggia hanno denunciato 30 persone responsabili a vario titolo di usura, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione di abusivismo bancario e finanziario. Nel corso delle indagini che hanno fatto piena luce su un vasto e ramificato fenomeno cittadino, coinvolgente artigiani, imprenditori e numerose persone in gravi difficoltà economiche, impossibilitate a rivolgersi e con normali canali creditizi, I militari hanno accertato l'applicazione di tassi usurai che spaziano dal 25 al 6.800% su base annua, su prestiti in denaro contante di oltre 200.000 euro, nonché su oltre 500 casi di cambio a segni a titolo oneroso. Per aggredire anche i patrimoni illecitamente accumulati dai componenti del sudalizio criminale collegato ad ambienti della criminalità organizzata di Foggia, i militari della Guardia di Finanza hanno avviato anche accertamenti patrimoniali nei confronti di tutti gli indagati dei rispettivi nuclei familiari. Queste indagini avrebbero accertato che il patrimonio riconducibile agli indagati risultava essere il frutto delle attività illecite perpetrate nel tempo e il riempiego dei relativi proventi. La totale sproporzione tra i beni accumulati e i redditi dichiarati, questi ultimi di importi tali da non essere sufficienti neppure a soddisfare le primarie esigenze di vita. Il GIP del Tribunale di Foggia, valutato anche il concreto pericolo che i beni potessero essere allenati a terzi, ha disposto il sequestro preventivo di 50 box, 14 appartamenti, quote societarie di 4 imprese e 8 autovetture, per un valore complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro.